ciao a tutti bentornati sul mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti oggi vi parlo dello smartwatch che ho acquistato su amazon il link lo lascio sempre nella descrizione io l'ho preso nella versione argentata il costo è di 45 99 c'è anche la versione dorata però io avevo uno sconto infatti si vede anche qui che ci si può applicare il coupon avevo uno sconto l'ho pagato 39 99 questa è la confezione c'è l'orologio lo trovo bellissimo perché anche molto fine e non è eccessivamente grande così ha qui la pellicolina da togliere come si può vedere è già in funzione non c'è bisogno di ricaricarlo adesso nell'altra scatolina c'è il cavo per caricarlo con la base dove poterlo agganciare è un altro cinturino in sostituzione questo è finta pelle bianco anche questo è molto fine in più c'è la pellicola da mettere poi sopra al vetro per proteggerlo e qui c'è il manuale schiacciando il bottoncino laterale viene fuori il qr code da scannerizzare per scaricare l'app dal cellulare schiacciando un'altra volta ci sono praticamente 65 quadranti che si possono cambiare ma il bello di questo cellulare è che si può anche mettere grazie all'app una foto che che ci piace da poter utilizzare come quadrante questa è l'applicazione da scaricare apriamo bisogna appunto iscriversi con tutti i dati traduzione lascia un po desiderare ma adesso insieme vediamo un po le funzioni allora qui ci sono i passi poi le ore di dormire quindi ti segna quanto hai dormito praticamente questo dovrebbe essere il cardiofrequenzimetro ok poi abbiamo i passi e infatti nell'applicazione si può mettere quanto hai camminato l'obiettivo che vuoi raggiungere ogni giorno ecco poi c'è il calendario per per vedere un attimo tenere sotto controllo i battiti e del cuore eccetera e poi ci sono le calorie che si consumano nell'esercizio allora in basso sinistra schiacciando abbiamo sempre il controllo del cuore delle calorie e degli esercizi fatti poi c'è il dispositivo che appunto tiene sotto controllo l'orologio quindi la batteria e quello che è il resto poi abbiamo quello che controlla appunto i quadranti dell'orologio quindi abbiamo i primi sei che sono quelli fissi che rimangono però si possono poi sostituire sempre dall'applicazione con vari quadranti quindi qui in totale sono 60 e sono tutti molto belli poi io sono praticamente tutte le impostazioni del mio profilo adesso vi faccio vedere come dall'applicazione posso mettere una foto mia personale sul quadrante dell'orologio devo andare in dispositivo puoi premere casa fai da te anche qui la traduzione particolarissima cliccare su immagine prendere appunto le foto del cellulare e poi scegliere io ho scelto quella con la mia cagnolona poi si può aggiustare quindi mettere la parte che ci interessa di più dare invio il bello che in aggiunta alla foto si può aggiungere anche sul quadrante o i passi o le calorie bruciate oppure il tempo o i battiti ecco qui c'è il quadrante che ho scelto con i passi da sinistra verso destra cambio i quadranti che preferisco metto quello che voglio dal basso verso l'alto ci sono le varie impostazioni ok giochi vabbè musica poi se schiaccio per esempio fotocamera ecco da qui posso schiacciare la foto che voglio che poi andrà sul cellulare abbiamo anche il meteo ok e così si vede anche i giorni 14 4 15 4 e così vediamo un po anche i prossimi giorni che tempo ci sarà dall'orologio posso controllare anche la musica faccio partire poi scelgo quello che voglio alzo e abbasso il volume e così è spento allora così si accende adesso andiamo a vedere se mio cuore batte vediamo un po ecco di qua i miei battiti e dai sono abbastanza buoni questa è la base è sempre a calamita e comoda che così è facile anche da tenere sul mobile per caricarlo allora devo dire che sono soddisfatta dell'acquisto niente con questo bello orologio che adesso andrò a mettere in carica a proposito dimenticato di dirvi che la carica è per un paio d'ore però dovrebbe durare sui due tre giorni niente adesso vado a caricarlo e vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!